Cioè, io divento matta su che cosa con voi? Ma divento matta perché? Perché? Cerco di spiegare perché divento matta. Se Gennaro, quando lo vedo ballare da solo di Steve, dico questo, è più di Gennaro sicuramente che di Antonino, no? E tutti si accorgono, infatti, guarda caso, che balla meglio Gennaro di Antonino su questo. Ma quando questo, quello è entrato facendo esattamente queste cose e ha vinto la sfida su queste cose, quando fa queste cose, no. Lui che non le ha mai fatte e si trova a fare una cosa che non è sua, ci mette cento, poverino, perché ci metterà pure cento, ma non è suo, non studia queste cose, non le ha mai volute studiare. Magari non gli piacciono neanche, lo premiamo perché le fa. E come se io domani vado a cantare, stono, però ci hai provato. Brava. No, no, Maria, no, no, non è proprio così per niente.